La libertà cristiana non indica una visione statica della vita, una visione statica della cultura, ma una visione dinamica, una visione dinamica della tradizione pure. La tradizione che cresce, 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 ma sempre con la stessa natura. Non pretendiamo pertanto di avere il possesso della libertà, no. Abbiamo ricevuto un dono da custodire, ed è piuttosto la libertà che chiede a ciascuno di essere in un costante cammino orientati verso la sua pienezza. E la condizione di pellegrini e lo stato di viandanti in continuo essono, liberati dalla schiavitù per camminare verso la pienezza della libertà. Grazie 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 Grazie